Bene, allora via! Lei è la persona più disgustosa che io abbiano incontrato in vita mia! Grazie, grazie! E sa perché non mi piace? Per tutti i motivi che le ho appena detto? Sì! Ma soprattutto perché per qualche strana ragione che nemmeno l'oxycanalista ungherede potrebbe mai capire e che io ho improvvisamente capito che lei... Insomma, così mi sono accorta di un tratto che lei... Mi arrafa! Si dice così, no? C'è qualcosa, è lei che mi fa impazzire! E che io... Se è un modo per avere uno stipendio lei fuori di melone! Lei non mi crede, vero? E che modo si sentirebbe a trattar da me? Non so! È che la guarderà! Eh! E... Le piace il mio modo di vestire? No, ma non è quello! Di camminare? No, nemmeno! Nemmeno, nemmeno! E cosa le piace di me? Un po'... Che... che la guarda in più? Sì... Mi piace il sudore! Più nemmeno più... Lei è la persona più disgustosa che lei abbia mai incontrato il mio figlio! Però se tentate di baciare, io non mi ripiperai! Ah! Lei si sei appena, me l'ha fatto fatto delle aspirine! Immagino che voglia sapere cosa abbia dato inizio a questa trattatura! Ma no, ma no! Cosa? Le due ciglia grigie! Io non l'ho mai incontrata una persona della città con delle ciglia grigie! È cretino avere le ciglia grigie! È vero! Eppure lo sa! Io sono contenta che lei le abbia! Posso fargli una domanda? No! Dica! Lei... Non ha nessun desiderio di toccarmi! Non capisco! Cosa non capisce? Il desiderio o il toccarmi? Ah, chiaramente! Non ci ho mai pensato! Bacci, pensa! Tempo scalduto vuole toccarmi! Ah! Lei ha messo! Il whisky deve essere gay! Penta! Io sono molto onesta con le mie emozioni! È l'unico modo che io conosco la vita ruda! Cruda e disgustosa! E' solo che vorrei sentire il suo piatto sul mio... Eh, no! E questo non me lo doveva dire, però! Mi ha scappato! Non c'è la possibilità che lei provi lo stesso disgustoso sentimento nei miei confronti! Lo proverai! Se non fosse disgustoso, se non fosse disgustoso, lo proverai! Non ha capito, ma andrà bene lo stesso! Domani stia qui, eh! Non mi segua, sa! Ma sono l'ha fatto? Donde è che sta? Sia lì! Sia lì! Ma io capisco! Non posso sentire il sudore! Signora Fulmine! Ma come può una ragazza americana? Come può? È spiegabile! E' soffidanzato? Eccolo da qui! E io cosa ho fatto? Di male! Io cosa avevo fatto quando questo amico mi diceva per tutto il centro sportivo? Sono cose che accadono! E basta! E basta! A me non è che fa molto piacere essere ucciso, eh! Aspetta! Perché adesso lei non fa qualcosa di fisicamente ripugnante mi creda andrà bene a tutti e due? Eh? Ecco! Non ci sei riuscito! Ma cos'hai da ridere? E che mi piace quando fai così! Andy! Andy! Sono tornato! Ma che biaco meraviglioso! Andy! No! Ma che cos'hai da, va ilachtoff me !!!